L'amore è solo una reazione chimica prodotta dal corpo. Al massimo dura tre anni, tre. È matematico. Poi all'improvviso finisce. La vita non è come nei film, sai, dove tutto è carino, perfetto. Vuoi dire come quando due persone stanno parlando e poi all'improvviso si baciano? Sì, cose del genere non succedono mai. Nasciamo tutti con ingredienti diversi. Il segreto è saperli abbinare. Il gusto dell'amore. Domenica in prima serata, sulla 5.